ciao amici sapete che gli oli essenziali hanno numerosi benefici per la salute ne ho parlato anche in questo video trovate il link in descrizione gli oli essenziali sono vari ma oggi parliamo di uno famoso l'olio essenziale di limone facilmente riconoscibile per il suo profumo intenso e dalle proprietà rinfrescanti vediamo insieme 10 usi nella vita di tutti i giorni dell'olio essenziale di limone se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video amici se vi interessa questo argomento ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra 1 per la cura della pelle l'olio essenziale di limone è astringente disintossicante e antisettico per la cute aiuta a rimuovere le cellule morte e a ridurre l'eccesso di sebo della pelle può essere aggiunto al detergente del viso per una pulizia impeccabile 2 per profumare i capi l'olio essenziale di limone può essere aggiunto anche in lavatrice o durante il lavaggio o nel momento del risciacquo finale aiuterà a rinfrescare il bucato e a far profumare di pulito anche la lavatrice 3 per disinfettare in cucina l'olio di limone può essere usato per disinfettare taglieri e piani della cucina basta immergere un panno o una spugna in una ciotola d'acqua con gocce di olio essenziale di limone 4 per sgrassare e rimuovere lo sporco l'olio di limone è un valido alleato per sgrassare o rimuovere colle etichette a saperlo evitavo di rovinarmi le mani strofinando con le pagliette sì prova metti a bagnomaria in acqua calda con qualche goccia di olio essenziale 5 per migliorare umore e concentrazione l'olio di limone può aiutare a concentrarsi nello studio o nel lavoro basta mettere qualche goccia tra le mani e ispirare a fondo migliora anche l'umore 6 per allontanare gli insetti da casa l'olio di limone allontana gli insetti il suo effetto repellente si diffonde con il diffusore ma per noi è gradevole 7 per curare i capelli l'olio di limone aiuta a rafforzare tonificare i capelli inoltre è antiforfora se volete sapere tutti i segreti su come ottenere capelli perfetti ho scritto una guida facile con tutti consigli il link è in descrizione 8 per rafforzare il sistema immunitario l'olio di limone può rinforzare il sistema immunitario contro i malanni di stagione basta strofinare sulla nuca gocce di olio di limone con olio di cocco per stare meglio 9 per trattare i calli ai piedi l'olio di limone aiuta a combattere calli e vesciche ai piedi basta applicarlo puro sulla parte interessata per diversi giorni di seguito 10 per detergere il legno l'olio di limone unito a dell'olio di oliva può aiutare a pulire le superfici in legno avete visto amici quanti sono gli usi dell'olio di limone nella vita di tutti i giorni per vedere tanti altri video sul benessere è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate per sostenere il mio progetto di salute naturale cliccate su abbonati al canale il benessere è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di simona vignali